Lo sapevate che Johnny Depp, le primissime volte che iniziò ad indossare i panni del capitano Jack Sparrow, rischiò di essere cacciato dalla set e di perdere il ruolo. E a raccontarlo è stato lo stesso attore durante un'intervista risalente ai tempi della lavorazione del primo film. E da quello che ha raccontato Johnny, alla Disney non stava piacendo molto il lavoro che l'attore stava facendo con il personaggio. A quanto pare infatti ai piani alti infastidivano le movenze che l'attore aveva dato al personaggio e il modo di parlare. Pensate che stavano per mettere i sottotitoli al personaggio perché non lo capivano. Ma per fortuna è finita bene.